Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Sonatok e rieccoci sul DLC di Elden Ring. Come vedete siamo arrivati nel precedente episodio in questa nuova area, area che sembra incredibilmente grande e allo stesso tempo come molte aree di giochi from software stupendamente collegata, come possiamo vedere, lì all'orizzonte. Non vi ricorda nulla? Quelle ombre, quei ruvi di ombra che imprigionavano un'intera torre. Io sono super curioso di scoprire come tutto questo si colleghi sin lì. Allo stesso tempo tanto ci siamo lasciati alle spalle. Quindi io direi di esplorare tutto questo, per viverlo al meglio in futuro, leggere quanto troviamo e successivamente tornare dai nostri compagni NPC per la quest. Oppure prima provare a battere, perché no, il boss sul Facocero. Ne abbiamo l'opportunità, possiamo tranquillamente farlo. vedo già nemici su nemici. È una grazia lì. Sappiamo dove andare allora. Esploro un po'. Inizio da questo percorso, perché no? Sembra quello più inospitale. Guardate qui, che vista! Si riesce a vedere tutto il regno dell'ombra e da questa altezza sembra tutto illuminato. Noi siamo stati lì, quello è il picco del drago dove abbiamo battuto Bale. Quella è la cattedrale e questa è la rocca. Con tutto il percorso che abbiamo vissuto, con tanto di accampamento dove era presente il golem. Lì è dove abbiamo parlato l'ultima volta con Leda. È lì, è dove abbiamo battuto nell'ana. Da quelle parti vi è l'inizio del titolo. E qui, nuovamente, questo nemico. Ma perché? È così pericoloso? L'abbiamo battuto da poco con tanto di invocazione possibile. Che farai? Salirei le scale? Chi lo fa? Me lo merito. Mi dispiace davvero tanto per te. Sei stato utilizzato così a sproposito. Ora mi abbatte. E farebbe bene a farlo. Battiamolo nuovamente per la quarta volta, credo. Sì, lo so. Corrofina le tue sofferenze, amico mio. Questo boss si può fare con invocazione, ragazzi. Con tanto di statua di marica vicino. E con tanto di morti, anche. Spero che siano tutti i giocatori che stiano giocando con un'arma provvisoria o a livello infimo. Perché altrimenti non mi spiego le morti, davvero. Lì? Cosa vi è? E' tutto così protetto dalla vegetazione. Vuol dire che nasconde qualcosa. Sì, guardate. E' la belva divina. Sembra lei. Ma è qui. Chi l'ha invocata? Non si può raggiungere da questo lato. E quel cavaliere? Ha due lame. Ed è l'unico in questo piccolo specchio d'acqua. Da lì sotto. Perfetto. E' presente un cavalire. Ed è un cavaliere del crociolo. Sinceramente non mi sono ancora battuto con lui. Sono scappato dalle spalle per sbloccare la grazia e viverlo con voi. Ma prima voglio leggere questa crociere di Miguel e gli oggetti che ha naturalmente. Potenziamento. Lo leggeremo presto. Qui abbandono l'ultimo brandello del mio corpo. Ha finito il suo percorso. E sappiamo dove porta tutto questo. Possiamo benissimo distinguere i ruvi all'orizzonte. Dobbiamo parlarne. Perché vi è qualcosa lì. Qualcosa che non sappiamo e allo stesso tempo un qualcosa che probabilmente abbiamo visto. Comunque sono molto vicino a quel boss che ho affrontato poco anzi. Lì dall'altro lato. Qui vi è ancora questo cavaliere che devo raggiungere. Sembra che sia possibile farlo da questo ponte. Dopo aver quindi sconfitto nuovamente quel boss deve essere un qualcuno di fortissimo. E non è Dean. Non è Lida. Questo è un boss in piena regola. Ma ora concentriamoci su di lui. Quel martello mi spaventa e non poco. Credo che la forza bruta non funzionerà. Sarà comunque troppo forte. a livello di stabilità. Come vedete i danni sono praticamente inesistenti. Invece oh caspita cadi cavaliere. Oh no. Sai questa cosa fantastica. Fammi bere. Non me l'aspettavo lo ammetto. che bel combattimento. Ecco lui è un boss non quello che abbiamo affrontato. Non quell'ipopotamo. In realtà so che è controintuitivo ma bisognerebbe rollare verso di lui con questi attacchi. così. Ecco non così perché così lo prendo completamente. Però sei molto lento. Lancia? Lo credevo molto più forte. Contando che sto giocando con lui ma è stato messo anche vicino una grazia dopo tutto. Parezzo. Elmo Martello del crogiolo. Vi era la grazia qui a fianco. Dov'è questa statua di Marika? Ok è il percorso che ho fatto e per chi non è riuscito a sedersi quanta gentilezza Elden Ring. Quindi ora dovremmo andare da qui. ancora anche lui ok conosco questo attacco è quello che ha fatto il golem sotto la rocca quindi dove dovrei andare lì sotto lì non può colpire vero? Tecnicamente però esattamente come ha fatto ora potrei approfittarne per andare da questo lato anche durante il suo attacco sì è molto lento dovrebbe essere qui vero? accelerazione battiamo battiamo questo golem alle caviglie scoperte sì perfetto runa e si va che cattiverio che cattiverio salve da quanto ho tempo sono tentato di invocare la mia lacrima almeno possiamo fare il tutto leggermente più velocemente e no ragazzi non si muore davvero è possibile perché comunque i suoi attacchi sono letali ma bisogna essere davvero sfortunati è finita anche con questo cosa ci darà? cosa possiamo fare con tutti questi volti? ci sarà per certo un qualcuno che li desidera che vuole scambiarli io li adoro sfruggiamo prima lui vi sarà un modo vedo nemici morti cani nascosti e frecce giganti no non è da qui anche se sembrava fattibile ok ecco questi golem sono invecchiati malissimo distruggiamo come niente ragazzi guardatelo ecco la sua fortuna è stata cadere all'angolo altrimenti sarebbe morto ancora prima e possiamo finalmente raggiungere questo boss e questa volta affrontarlo da soli come in realtà abbiamo già fatto ma totalmente soli questa volta anche batterlo visto che precedentemente abbiamo dovuto non farlo per la quest quindi si va semplicemente così non vi è una grazia ma vi è la statua di Marika e sì eccolo bestia divina non sono neanche arrivato neanche entrato nell'arena chi ti ha evocato ricordiamoci che è stato il secondo boss più bello anche Rellana è stata molto carina ma questo l'ho adorato però ho paura di affrontarlo fuori dall'arena ancora cade trasformati trasformati ho detto siamo diventati più forti anche se probabilmente anche tu lo sei ecco la sua trasformazione approfittiamola cos'è? però questa è davvero cattiva caspita super inaspettata cattivissima da Dark Souls anche lui naturalmente morbo eh oh no un altro freeze spero che non ci siano problemi con la registrazione ragazzi dovrei fare di meglio lo sta facendo mi sta mettendo il morbo oh no ogni tanto ci sono refreeze non ti conviene sono a casa con questo continuo a ripetere bellissimo boss vediamo se riusciamo anche a fargli entrare il congelamento l'abbiamo già fatto in verità si è andato basta è finita mi dispiace sei bellissimo ed è stato trattato non come un nemico qualsiasi come gli ipopotami ma come un vero e proprio boss il tornado la seconda fase inaspettata ma bella vediamo cosa vi è qui e come raggiungere quel cavaliere guardate tra l'altro il morbo quanto dura non scende e non vi era nessuna cura qui nelle vicinanze lo ripito uno dei migliori scontri onesto forse con la telecamera un po' pazzerella ma super fattibile dovresti essere qui tu vero finalmente ci vediamo chi o cosa sei e soprattutto posso batterti con questa mia vita attuale è un misto fra Malenia e Ornstein da notare che ok sono debole sicuramente ma vengo dall'aver sconfitto un boss in tranquillità arrivo qui proprio inaspettato come attacco avrei potuto perriarlo no io sinceramente non l'ho visto neanche arrivare ho visto le due spade venire contro di me ma non è stato quello di uccidermi assolutamente è stata una cenere di guerra un incantesimo che mette sanguinamento ma quelle spade sono le stesse che abbiamo visto ai guerrieri del corno il gioco è stato così gentile da mettermi le rune così lontano in groppa torrent sarebbe possibile sì ma voglio vederlo meglio facciamo attenzione cosa casta cosa fa dietro di lui sembra esserci un dungeon però non è fortissimo eccolo non è arrivato sin qui era quell'attacco quindi mi ha colpito semplicemente con tutti i suoi poteri ecco perché sono morto così velocemente sei stato solo incredibilmente fortunato che tristezza cosa mi darai niente e sapete cosa significa? che oh siamo stati incredibilmente sfortunati o che con moltissima probabilità è un nemico normale che incontreremo spesso e spero più in quest'ultima ho provato un po' di gesti ma nulla e non sembra neanche esserci un qualcosa dietro guardando la mappa strano perché comunque quest'area è possibile visitarla da qui su questa l'abbiamo già vista questa anche è anche tutto questo è percorso strano non vi è neanche una grazia per esempio qui l'avrei messa però forse proprio perché non vi è nulla significa che non serve all'esplorazione e come devo ritornare indietro? beh no non credo per di qui è un luogo totalmente isolato questi animali sono incredibilmente stupendi davvero non ne capisco l'utilità se non a livello di disgusto che possono far provare ma ci sono i bimbi? no non li ucciderò ragazzi anche io ho un cuore caspita anche perché non ci possono far nulla comunque sono semplicemente creati per dare disgusto perché altro motivo non trovo sono abbastanza deboli si abbattono facilmente e servono semplicemente a fare imboscate davvero bizzarre visto che comunque sono super visibili sulle pareti vi è un qualcosa qui ci porterà qui su per ora abbiamo trovato solo come vedete anche dalla mappa questa catacomba ma questa catacomba era visibile da qui dove ho battuto l'orso ecco vedete sono davvero raffazzonati i loro tentativi di ingoscata quando quasi pena è la difficoltà inesistente devo ancora trovare il modo di attivare quella corrente eppure ho esplorato abbastanza bene tutta quest'area che è composta da nemici davvero ostici ma sono quasi arrivati in cima vi viene un qualcosa e questa parte è quella che non ho esplorato prima visto la presenza del gigante non è un'altra ma se scendo ok posso risalire come vuoi combattere uno non è l'unico ma è sordo come tutti gli altri fantastico e questa tecnica sono le sue ceneri di guerra no che abilità incredibile parisci ha molta vita ragazzi è più forte di quelli che abbiamo incontrato naturalmente stabilità infinita li adoro peccato per la loro armatura invece non altrettanto bella lo sapevo allora cadi anche tu mi conviene bere o attaccare entrambi questo lato invece no oh no ah credevo di avere lo scudo potevo finalmente utilizzare il mio perry magico su questi coltelli voi non avete a che fare con il nostro amico marcia scienza scarlata non me lo aspettavo leva tanta vita ho qualche amulito anzi talismano che dovrebbe aiutarmi contro la marcia scienza ma non tantissimo non ricordo qual era quel boss presente nella zona con la marcia scienza nel gioco base la vita scende tantissimo e curarmi inutile visto comunque la presenza di tutti questi nemici devo fare semplicemente attenzione alla mia vita mi va di venire qui o no ha funzionato ma solo con parte dei coltelli una bellissima area ostica quindi è possibile anche raggiungere il tutto da qui senza fare quel percorso in maniera molto più semplice però volevo davvero attivare quella scorciatoia da qui invece sì è lo stesso percorso oh non me lo aspettavo erano lì al varco oh no lo sapevo lo sapevo vieni qui non scappare oh sono tantissimi ok lune recuperate fiaschetta presa ricercatori abbattuti rimane solo lui e un'altra due vedo vogliamo oh no oh no devo bere sarei morto comunque per la maccia scienza ragazzi ecco ho fatto più morti qui ergo due che non ai boss valide eventuali che abbiamo affrontato in quest'ultimo periodo ma il bello dei giochi from è anche questo la possibilità di avere bondi difficili esattamente come i boss oh no ah riuscirò a bere prima della fine della marcia scienza adoro come scappano scappano facendoci perdere tempo vediamo se riusciamo a recuperare il tutto è stata una mossa totalmente stupida allora il mio perry non funziona perché funziona semplicemente su parte dei coltelli e non su tutti devo abbatterli pian piano non avere fretta e devo bere ora non ho non devo ciao ciao rune non mi conviene attaccare lui devo attirarli un po' per volta infliggiamo magari con l'ingelamento ok meno uno devo bene assolutamente due volte fa nulla consumare le fiaschette e ora che l'opportunità abbattere lui e nel frattempo attaccarlo in salto ok è nostro dovrebbero rimanere due euro come nemici in questo caso per esempio indossare un talismano che per esempio renderebbe più leggeri i nostri passi aiuterebbe tantissimo vi è un'imboscata o è solo lui mi sembra così strano solo lui davvero in tal caso mi vendico su di te cosa veneravano nuovamente lì raccolgo tutti gli oggetti e vediamo dove ci porterà mi aspetto un boss il fungo della mosca qui sopra che brutto posto ragazzi come ci sarei dovuto arrivare però e soprattutto è un qualcosa che si sblocca o è semplicemente invisibile proviamo abbiamo gli oggetti per sicurezza vediamo se funziona si sembra abbastanza largo questa è la quest della spada nella rozza vero? dal profondo delle radici inalterabili raggi di luce si intersecano e riflettono per dare forma a una lama d'argento spada della luce estratta dal fodero come abbiamo ben visto immagino che a questo punto creerebbe raggi che bello mi ricorda la spada che utilizzavo in Dark Souls 3 tutto questo serviva solo a questa questa dobbiamo trovare comunque quella di oscurità ma quindi si può trasformare in un modo o nell'altro non vi è possibilità se non in un new game di averle entrambe lo so chi è grazie ai messaggi sono riuscito a trovare tutto e anche grazie alla vegetazione come ben vedete però come avrei dovuto capirlo semplicemente muovendomi all'interno del mondo forse vedendo quella roccia in lontananza lo so è inevitabile provo con lo scudo ragazzi almeno riesco a periare parte dei loro attacchi ma la vedo davvero difficile guardate quanto vi è con il mio personaggio che decide di incastrarsi anche finalmente che bello ragazzi spero che sia possibile attivarle davvero con poco oh no con poco a livello di magia e quindi che siano utilizzabili da me ma la vita dura spero che vi sia una grazia qui serve davvero ma no sento ancora questi cercatori forse no il rumore della marcia scienza ho visto comunque la grazia lì sembra che porti esattamente a questo castello e qui c'è poco da dire guardate qui vi è un passaggio vi è un qualcosa per arrivare a quanto abbiamo visto anche solo un metodo per bruciare quei ruvi d'ombra oh giusto marcia scienza secondo voi cosa vi sarà all'interno di questa arena è così evidente vedete la marcia scienza è già fuori sarà una post fight ardua non posso utilizzarla purtroppo peccato e non la sto toccando così la leggiamo insieme anzi approfittiamone non ho trovato tantissimi oggetti interessanti durante questa esplorazione questi che abbiamo ottenuto nel precedente episodio vi era giustamente la mappa che ho preso gli occhi che abbiamo già visto questo è quello che abbiamo avuto dall'istrice scusatemi ippopotamo in un lontano passato quando queste terre non erano ancora ammantate dall'ombra il crogiolo ribolliva di vitalità come testimoniano le antiche rovine forma del crogiolo che si manifesta in un ipopotamo dorato ecco questa descrizione va bene su qualsiasi oggetto qualsiasi oggetto sarebbe potuto diventare un qualcosa dal crogiolo perché no questo scorpione è più grande di un umano e attacca usando le sue tenaglie e la sua coda vellinosa non è mai successo anche se abbiamo preso il suo fegato e avevamo già visto un qualcosa questo tipo di scorpione è originario del regno dell'ombra ma un tempo era di taglia minore i recenti esemplari giganti sembrano provenire dalla chiesa del bucciolo vengono da qui quindi quindi uno scorpione gigante un insettoide comunque con molta probabilità turbine foglia morta questa abilità rappresenta il culmine dello stile di lotta di dain basato sul gioco di gambe si eleva in aria con una serie di calci rotanti per poi abbattersi al suolo con un potente colpo finale infonde di energia i calci incrementando nella gittata talismano ricavato da piume sottili che riproduce le sembianze di diverse creature sembra sia l'escrescenza di un corpo umano risalente a un lontano passato disgustoso migliora la schivata durante i passi indietro ma incrementa i danni subiti come qualsiasi oggetto all'interno del gioco che migliora la schivata giustamente oserei anche dire è già abbastanza funzionale al gameplay il crogiolo è sacro per gli araldi del corno come ben sappiamo che ne veneravano i doni portatori di evoluzione nello specifico le corne intrecciate grande pietra nido in cui è incastonata una gemma bianca immacolata ritenuta una forma purissima di cristallo e una perla praticamente utilizzabile per creare un'esplosione spirituale consumando lo spettro che risiede nella spettropietra i legami con gli spiriti non erano destinati a durare appunti sulle tecniche di creazione stilati dagli accademici degli araldi del corno che studiarono le antiche rovine di Rao descrivono tecniche di controllo degli spettri che si pensavano perdute talismano di tutti i crocioli enorme massa contorta di attributi del crociolo riduce i danni subiti da colpi critici e colpe la testa e migliora l'efficacia delle capriole e passa indietro sono curioso di sapere il tuttavia tuttavia incrementa i danni subiti in ogni momento beh giustamente dicono si è emersa dai giganti ed è nota come la madre dei crocioli nelle antiche rovine della torre è comunque utilissimo questi legacci che non hanno comunque nessuna descrizione ci vengono dati dai sanguidemoni ogni tanto almeno a quanto ho visto messaggio di Dane foglia morta indirizzato a chi segue le tracce di Michella siamo quasi arrivati all'albero sigillo per bruciarlo tuttavia serve il combustibile giusto quello di Ser Mesmer wow 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 scoperto così con un messaggio martello enorme brandito da Devonia membro più anziano dei Cavalieri del Crociolo arma realizzata con oro primordiale contraddistinta dai suoi riflessi scarlatti e pervasa da un'antica sacralità sulla parte frontale è raffigurato il torrente della vita al suo interno scorre l'energia vitale del Crociolo la forma primordiale dell'albero madre detta così senza mezzi termini qualcosa che comunque noi sappiamo bene dal gioco base ma che bello leggere in queste descrizioni Devonia lascia le terre dell'albero madre per intraprendere una missione solitaria alla ricerca dell'origine del Crociolo perché dopo tutto questo allora ti sei bloccata lì ho letto semplicemente Mesmer vuol dire che sarà davvero triste la maggior parte delle belve divine furono sgozzate e issate sulle picchie di Mesmer poi bruciate nella sua fiamma per i presenti fu come assistere all'accensione della pila funeraria della torre stessa giustamente visto quello che rappresentavano per loro ricordiamoci che sono belve divine non a caso e la loro trasformazione avuta all'interno del gioco è una delle cose più tristi per quanto ingenue anche questo è l'attacco del fiore gigante crea un fiore di Miranda sul torace ed evoca una pioggia di luce in un lontano passato quando queste terre non erano ancora ammantate d'ombra bellissima descrizione che ci porta a capire ancora di più di queste terre il Crociolo ripolliva di vitalità fiore di Miranda appunto sin dai tempi antichi i profumieri tengono in grande considerazione questo suo atente polline di Miranda mai disperso in aria vi fu un tempo in cui questi boccioli non erano corrotti dalla marcescenza scarlatta all'epoca erano simbolo della minuscola chiesa protetta nell'antiche rovine di Rao chissà come erano un tempo abilità dei parassiti noti come servi della marcescenza secerne filamenti appiccicaticci e li attorciglia a formare due lance che poi scaglia frontalmente la carica accresce la potenza i parassiti sono servitori rimasti senza padrone che hanno trovato una madre nella santa del bocciolo una madre qui dentro beh allora ora sappiamo cosa vi sarà un gigantesco parassita madre di tutti questi e Dain chi è costui Dain dovrebbe aiutarmi lui sembra molto legato all'ida che comunque nel precedente episodio mi sono scordato di dirvi che non è più qui mi è andata via dopo quello che abbiamo fatto comprensibile e normale soprattutto sono così curioso ma no abbiamo altro da fare e mi sono scordato di dirvi una cosa tutta la stadia io l'ho visitata no come si arriva qui sì l'ho visitata perché dentro lì vi sono le rovine ma non sono arrivato sen sopra vediamo cosa si vede dall'entrata dovrebbe essere qui su ah non sembra praticabile devo controllare meglio mi sembra davvero strano vi stavo dicendo che però mi sono scordato di mostrarvi nell'effettivo cosa abbiamo ottenuto arrivando sin qui perché vi era un ponte come vi ho detto nel precedente episodio dove ho affrontato uno degli uomini di Mesmer messo a guardia e la sua descrizione importante era lì presente e dal magazzino era davvero semplice raggiungere quel ponte ora noi sappiamo che Mesmer è qui e l'unico posto è questo che rimane salvo che non si sia diretto altrove io è per questo che non sto avanzando nel castello in ogni caso come voleva si dimostrare non è sicuramente il boss finale comunque vi mostro cosa ho trovato di questo individuo questo è l'elmo del più anziano dei cavalieri Weiko avvolge la testa di chi lo indossa in un'enorme quantità di tessuto facendolo apparire che gonfia oltre misura discepolo dell'anziano Weiko rischiò la vita rifiutandosi di bruciare delle vecchie rovine prima di qualsiasi cosa proviamo le mot vediamo se funziona dovrebbe essere questa vero? ragazzi un'altra aria certo lo sapevamo l'abbiamo visto dalla mappa ma è un'altra aria quanto vi è in questo DLC? guardate lì una sentinella oh ero preso allora no volevo solo sbloccare questa parte ora prenderò tutto quello che mi darà e diventerò un guerriero solitario che si farà chiamare l'orso bruno perché no è questa la lore di alcuni personaggi e ehi ma fate davvero che cosa vi ho fatto? perché la fauna ce l'ha con me? non c'è più nessuno perfetto ho tantissima voglia di esplorare tutto anche perché sembra un qualcosa di incredibilmente bello e un qualcosa che ci porterebbe a questa quest che ci aiuterebbe a scoprire molto sul contemir ma voglio prima provare a battere questo boss successivamente Midra che sembra un personaggio incredibilmente interessante nonché legato alla lore delle tre dita e non solo perché qui vi è tanto tanto altro e qui un qualcosa che non riesco a distinguere successivamente direi di provare ad affrontare quest'area così da poter parlare col conte e scoprire cosa nasconde anche lui sotto il suo passaggio segreto e dopo provare a sconfiggere la madre di palazziti per quanto la vedo una quest quasi finale quindi un boss incredibilmente potente con molta probabilità più forte del probabile mesmer ma chissà magari potremmo esattamente come è venuto con Seth il senza scaglie affrontare mesmer qui o meglio solo una delle sue fasi e poi in futuro scontrarci con lui magari proprio legato a miguela anche se vi è davvero tanto da capire dei loro rapporti e quest'area non sembra incredibilmente grande e un'altra cosa che devo fare è provare a combattere il golem presente in questa zona ora sappiamo come batterlo e magari custodisce un qualche tipo di segreto fermo restando che io vorrei anche esplorare nuovamente la costa gerulia oltre perché ci manca questo posto che a quanto pare racchiude un dungeon o comunque un nemico perché voglio capire quella figura come mai non è apparsa era presente nel thriller di presentazione come mai non abbiamo avuto modo di incontrarla è davvero strano e in realtà farei un giro di tutto ma per quello aspetterò di farlo off screen magari registrandomi e mostrandovi quello che accade iniziamo dal golem che sarà la cosa più semplice successivamente boss e NPC cosa farà si avvicinerà nemici strani sono esattamente come i santuari con la differenza che loro non ci stanno aiutando con le anime dei boss potresti avvicinarti devo continuare a scappare qui forse devo avvicinarmi io farlo avvicinare perché no ok non vuole avvicinarsi sta avvicinando perfetto vieni qui ecco a te ecco a te ed ecco a te è finita? non sembra esserci null'altro un tesoro vediamo vicino un castello ricordo che lì ce ne fosse uno se si attiva bene anche se sarà un altro scontro inutilmente lungo e tedioso proviamo no? buon per noi un nemico in meno affrontiamo il boss allora sono pronto è difficile per ora è il più forte forse che ho conosciuto forse è quello che devo ancora imparare a battere adoro il suo potere esattamente come quello di Radan tranne che in quel caso era utilizzato per un fine bellissimo legato al suo cavallo forse ma lui invece è davvero troppo potente guardate che danni devo imparare a schivare bene questo attacco oppure buttarmi in groppa torrent oh no che boss veloce non si ferma un attimo e sicuramente avrà una fase 2 ragazzi è troppo monotono altrimenti però non c'entra niente lui con la vita del generale anzi del comandante caspita quanta vita la testa beh sapete che lo ricordavo più cattivo sta andando bene molto bene oh giusto la stessa mossa che l'altra volta mi ha ucciso devo continuamente bere e no qualsiasi cosa stia facendo devo fare molta attenzione guardate quante mosse non si ferma un attimo oh no la carica ecco ho perso non riuscirò a bere in tempo la sua armatura ricorda tantissimo quella dei cavalieri di lord gwyn oh no caspita potrei allontanarmi con torrent provare a bere e successivamente utilizzando l'ampolla subire un colpo però non è andata male anzi colpire il fuoco cielo alla testa provoca enormi danni ripeto stiamo pur sempre parlando di me che sono a un livello 99 con 30 in vitalità oh no ho sbagliato la runa addio scusate scusate rune perse per sempre con questa vita devo attivare la runa prima di entrare necessariamente altrimenti non riuscirò a subire più i due colpi ho provato a far entrare il congelamento e si congelano entrambi uno per volta ciò vuol dire che vengono considerate come due entità ecco perché ci sono così tanti danni guardate ora morirò ma vedete il primo non è entrato nel fococero vi sono tanti danni quindi fatto qui nel centro tecnicamente posso fare il doppio dei danni ecco come mai sono stato così efficace precedentemente bisogna attaccare davvero il comandante e non l'animale che lo porta in sella è molto più facile in realtà se riesco a resistere a qualche colpo forse è fatta no non mi lascia un attimo ragazzi è incredibilmente forte ho sbagliato però ci siamo ok non riesco mai a mettermi a schivare questo attacco proprio perché lo vedo come un attacco di cura invece non ho mai un attimo peccato c'ero quasi tecnicamente se avessi fatto il mio attacco di cielo sarebbe morto restando qui ad attaccarmi ma non voglio finire in parità voglio batterlo e quasi tutti i suoi attacchi sono schivabili è solo molto difficile perché è veloce non ti lascia un attimo di respiro vediamo è nostro il congelamento entrando ad entrambi ha fatto tantissimi danni vedete le fiaschette non ne ho utilizzate tante proprio perché in realtà questo scontro non va affatto curandosi ma schivando quegli attacchi è stato davvero bello purtroppo non scenografico e non con una musica fantastica tanto da farlo entrare fra i miei preferiti ma a livello di combattimento fra schivare attaccare infliggere danni da effetto e quant'altro carinissimo un po' forse troppo potente negli attacchi soprattutto quando il fuoco cero attaccava rimembranza del comandante Gaius scolpita nell'albero ombra lui e l'impallatore erano come fratelli maggiori per il leone ed entrambi furono maledetti alla nascita ciò nonostante o forse proprio per questo Gaius fu amico di Mesmer e comandante dei suoi uomini voglio vedere cosa si può creare da lui ma prima di andare agli NPC vediamo qui dove si arriva perché siamo incredibilmente vicini all'albero madre anzi all'albero ombra wow un livello in più un livello e mezzo in più non voglio distruggere tutto leggendo i commenti quindi questa parte oltre a essere incredibilmente bella e significativa per via del calice è semplicemente un qualcosa che ci consente di combattere contro un nemico potente e di ottenere tutte queste ricompense per diventare più forti mi aspettavo qualcun altro qui torniamo agli NPC abbiamo tanto tanto da fare bel boss comunque ragazzi davvero per mettersi alla prova è più bello addirittura dell'avatar dell'albero madre che ok graficamente parlando è a livello di mosse non è incredibile ma comunque a livello di scenografia fantastico e anche a livello di significato ma vi è qualcosa lì un'albinaura vai mi dispiace non ha a che fare con la quest vero cosa proteggiva mi dispiace davvero tanto perché lei la mente il talismano della mira ma perché qui leggiamo davvero non riesco a restare senza legge tutto questo schinieri di ferro nero forgiati per il comandante Gaius scarso di dubbio gusto poiché non poteva indossarli sempre in sella al suo inseparabile cinghiale Gaius era un guerrero di origine albinaure che bello che bello fantastico gli arcieri albinauri erano tiratori impareggiabili e le loro schiere incutevano timore in qualunque avversario potenza gli attacchi con colpi mirati faceva parte degli albinauri ecco perché era lì in sella che cosa fantastica allora è esattamente come era Dan in realtà è una persona incredibilmente dolce nessuno di quelli che abbiamo incontrato è davvero malvagio perché sì vi è sempre una motivazione che bello certo qualcuno è particolarmente malvagio ma esattamente come abbiamo visto con le truppe di Mesmer e quel qualcosa di orribile che hanno fatto vi è una motivazione per loro giusta per noi invece semplicemente un qualcosa che è successo e che ci limitiamo a giudicare infatti qui dall'anziana non si può creare tutta l'armatura manca il pezzo appunto che non aveva lui Gaius era il discepolo più anziano del medesimo campione di Alabastro che insegnò a Radan e a Gaia la tecnica gravitazionale ecco perché era incredibilmente simile ma molto più debole l'unica differenza è che qui viene detto che è parte dell'armatura spirata ai semi caduti un pesante armamento devastante in termini di capacità offensiva e l'abbiamo notato mostra tutto il potenziale del combattimento in sella del resto Gaius non si separava mai dal suo cinghiale tutti quelli che abbiamo visto anche gli albinauri come popolo semplicemente in sella e i loro animali non è mai stato un qualcosa di sfruttamento anche con Radan un personaggio così imponente su quel piccolo cavallo ormai vecchio e malato vi è sempre una storia d'amore d'amore inteso semplicemente come volere bene anche è qualcosa di fantastico mi piace tantissimo questo e abbiamo visto il potere offensivo di questo comandante però ragazzi ci tengo a far notare esattamente come ho già detto nel combattimento dettato dai miei 30 in vitalità certo con armatura e quant'altro ma sempre dettato dal mio livello una persona che arriva qui molto piccolazzata con un livello non dico tanto più alto del mio che sono 99 magari anche 120 130 150 distrugge questo boss e se pensiamo che molti sono arrivati nel DLC il cui livello consigliato era 150 l'ho scoperto da poco naturalmente ragazzi beh vuol dire che si è arrivati qui potentissimi molto molto più potenti comprese le varie benedizioni e potenziamenti dell'albero ombra Gaius e Radan erano rivali sin dalla gioventù e questa stregoneria è frutto della loro sana competizione ed è bello che venga aggiunta anche solo questa parola sana era una competizione carina fra loro da fratelli d'armi e sono molto più interessato a questo potere starò censurando tutto spoiler ed eccoci qui ora io ho trovato questo oggetto che non ho ancora visto ma sono abbastanza sicuro che abbia a che fare con lui oppure con Freya perché l'ho trovato durante l'esplorazione del magazzino e come vedete dal punto esclamativo non l'ho ancora visto svela il rito segreto del varco divino pochi sono in grado di decifrare questa pergamena che illustra il rito segreto del varco divino che pare si nasconda nella torre ammandata ad ombra un lord accoglierà il ritorno di una divinità e la sua anima avrà bisogno di un ospite un lord accoglierà il ritorno di una divinità è in qualche modo quanto fatto da Marika per ascendere allo stato di Dia chissà magari ci dirà qualcosa in più già da quanto tempo ti abbiamo anche probabilmente salvato da Lita qui E' sembra che il suo corpo è stato scontato con lui e preso direttamente a Mikkula. Sicuramente ricordatevi che io prima ho servito il Lord Moog come un knight di sangue pura. Dopo aver perduto in ogni riguardo e perduto la visione dei miei vows, faccio nulla per fare amministrazione, in qualsiasi modo che posso. Un secondo. Perché qui ora viene un qualcosa di fondamentale se guarda caso tutto ha a che fare con questa quest. Un Lord accoglierà il ritorno di una divinità e la sua anima avrà bisogno di un ospite. Quindi utilizzeranno il corpo di Moog. Perché altrimenti prendere il suo corpo? Nonostante tutto quello che è stato causato a Moog, perché sappiamo della sua vita travagliata, soprattutto per via del suo aspetto, delle sue corna, esattamente come per il fratello, utilizzeranno il suo corpo. E che anima! Con che fine, poi? Non posso consegnarla con così tanta superficialità. Voglio prima vedere Lida, cosa da dire. Magari stanno cercando entrambi la stessa cosa, per quanto mi sembra davvero strano. Tutto questo non sembra rientrare con quello che Lida sta cercando, vendetta. E al tal proposito, nel precedente episodio ho abbattuto quel ippopotamo dorato senza evocare nessuno. Io spero di non aver distrutto delle quest. Mi dispiace. Purtroppo me ne sono completamente dimenticato. Lo noto. Ti sento da episodi su episodi. Non in grado di leggere questo. Quindi è questo che dobbiamo fare? Avanti e indietro fra i due, per aiutare uno e l'altro. Ci sta. Sembra che i nemici non ci raggiungano sin qui. Ottimo. Parliamo in tranquillità allora. Già. Oh, sì? Probabilmente sì Torno da freglie Perché non metterli allo stesso piano? No? Vuol dire che dobbiamo consegnare quindi la pergamena Per continuare Però se è un qualcosa che già Migela Perché sicuramente è lui Conosce Che differenza può esserci Nell'aiutare questo NPC? Forse potrà aiutarci in un combattimento? Più avanti? Forse è semplicemente per far avanzare la sua quest? E mica mi sbaglio Orribile Allora Questo ci porta a tante conclusioni Noi sappiamo il potere di Migela Sappiamo della sua runa Sappiamo del suo ammagliamento Che a questo punto può benissimo aver utilizzato tanto con la sorella Che con Lord Mog Quindi lui nel momento in cui stava cercando di renderlo Suo consorte Era sotto l'influenza di Migela Sarebbe terribile come sorte Per lui naturalmente E ora hanno preso il corpo E ora hanno preso il corpo Abbandonando l'anima Esattamente come è avvenuto col fratello Per cosa? Perché vogliono far tornare il re consorte E naturalmente tutto questo è terribile Perché noi sappiamo che Migela ha abbandonato ogni parte di sé Compriso L'amore Quindi è diventato senza pietà ormai Senza compassione Senza sentimenti quasi Tutto per ascendere allo stato di Dio E' terribile esattamente come ci ha detto già La sua parte dell'amore Cos'è un Dio se in gabbia? Nulla probabilmente Ma a questo punto a chi si riferiscono come re consorte? Essendo Migela uomo Siamo portati a pensare che sia una donna Ma qui stiamo parlando dei dei Che non hanno sessualità quasi Come abbiamo visto con Marika e Radagon Quindi Essendo un re E' un uomo E non è malenia Quindi Anche se sorella Fra dei Tutto è possibile A quanto abbiamo visto All'interno di Elden Ring E qui la cosa mi sembra abbastanza Telefonata Forse anche troppo Per accedere a questo DLC Ci servivano due cose Battere Mok Giustamente per entrare Nel Regno dell'Ombra E affrontare Radan Quindi Che sia Il corpo di Mok E l'anima di Radan Noi sappiamo che Migela Ha sempre Amato Radan E il suo modo di essere La sua Forza Che era quasi impareggiabile Ricordiamoci che lui Avrebbe Non tranquillamente Ma avrebbe battuto Anche Malenia Se non fosse Per la marcescenza Scarlatta E poi è stato Abbattuto Dal nostro Protagonista Ormai Privo Di senno Se non Di sentimenti Per il suo Cavallo E qui Torniamo a quanto Ho detto prima Cosa bellissima Ma Far tornare Radan Con il corpo Di Mok Per quale motivo Per diventare Il più forte Per avere Esattamente Come abbiamo visto Senza fare Troppi spoiler Di fronte All'albero madre Un qualcuno Di potente A sorvegliare Ciò vuol dire Che Una volta Resuscitato Sarà Completamente Sotto il controllo Di Michela Oppure Utilizzerà Il suo potere La sua runa Si è pura follia Davvero Pura follia Che si ami O che si odia Il personaggio Di Mok Che sinora Abbiamo Quasi tutti odiato Se non fosse Per la sua storia Da piccolo Che triste Presa Di consapevolezza Sa Spero che ora Riusciamo A progredire Con questa quest Però Sì ma Dimmi che non è andato via Prego Ditemi che è qui Perché non mi sta aiutando Forse Si sono in qualche modo Mischiate Queste due quest Per fortuna Ma non ha conoscenza Non buttarti giù Che bel personaggio Probabilmente non incisivo Per quanto riguarda Tutta la lore del gioco Ma ci ha permesso Di capire tanto E sta anche aiutando Gli altri E Di conseguenza Noi In qualsiasi sia La battaglia Naturalmente Potremmo anche Eserci sbagliati E tutto questo Potrebbe essere legato A mesmer Ma Perché dovrebbe Aver bisogno Dell'anima di mesmer Sta aspettando Che noi Lo abbattiamo Per poi Inserirlo In mog Mi sembra un po' Strana come cosa Sembra La risposta A una precedente Richiesta Ma il foglio È stato Meticolosamente Piegato Per impedire A occhi indiscreti Di leggere il contenuto Per il mio signore Ho qualcosa per te In realtà Merito mio Però sì Sì Lui abbiamo Salvato In quell'occasione Lo farò Lo farò Cosa bella Ne sono sicuro Ormai Conferito ai membri Più illustri Della guardia personale Di Radhan Quando venne Istituito Il reparto Io Posso equipaggiarlo Naturalmente È pesantissimo Però Guardate come sta bene Con l'armatura di Radhan Bellissimo Ma Leva il potere del Perry Quindi È un qualcosa di quasi necessario All'interno di questo gioco Almeno per quanto mi riguarda Fermo restando che molti Semplicemente Per ovviare a ciò Utilizzano questo Personalmente Non ne sono fan Anche se capisco La motivazione Adoro più Gli scudi elaborati Con la mia build A questo punto Se Si tratta di Radhan Sul finale Cosa quasi ovvia ormai Otterremo Un'altra sua armatura Avrò l'armatura finale Ti manda i suoi Ringraziamenti Il mostro L'ho attaccato Già È andata via da qui E non la vediamo Da nessuna parte Aspetto ragazzi Io credo che Noi Abbiamo fatto davvero Tanto per questo episodio Per quanto magari In una maniera Confusa In questo video Visto I miei salti Da una parte all'altra Non si è visto Ora Dovremmo aver portato Avanti Probabilmente Già In una fase avanzata Le quest Degli NPC Perché Che a parte L'aiuto Che possono darci Magari ora Contro qualche Bossfight Difficilmente Penso che rivedremo Leda E gli altri Loro sono fedeli A Miella Loro Quella risposta Scoprire Scoprire cosa ci sta Nascondendo E successivamente Potremmo Potremmo Salvo che non sia Sotto la cattedrale Non ne vedo Un motivo Qui È un qualcosa Che ha a che fare Con le dita Non sappiamo cosa Ma ha a che fare Per certo Con le dita Non lo so ragazzi Probabilmente Nel prossimo episodio Rivedrò Nei limiti Del mio personaggio Del suo livello E Senza runa Maggiore attiva Il mio Equipaggiamento Voglio cambiare Voglio indossare Un qualcosa Che ha a che fare Con questo DLC Vi è tanto che mi piace Io come vi ho detto Anche durante Lo scontro contro Bale Il terribile Purtroppo sono limitato Dalle mie statistiche Non vi è molto Che posso prendere Rispetto a già Quello che ho trovato In endgame Nel gioco principale Però voglio cambiare Anche per esempio L'arma Del guerriero Che sorvegliava Trina È bellissima E sarebbe Un qualcosa di nuovo Ma la mossa Secondaria È orribile A mio modo di vedere Rispetto a questa Voglio trovare Una quadra Che mi permetta Di rinnovarmi E allo stesso tempo Andare avanti Nel DLC Senza difficoltà Perché comunque Io lo ripeto Per chi magari Vedendo il singolo episodio Si sia perso A tutto questo Io sono entrato In questo DLC Appositamente A un livello Più basso Senza che sapessi Quale fosse Il livello minimo Per accedervi Perché credo Che il livello 99 Sia un ottimo livello Con cui ho finito Non tranquillamente Ma ho finito Il gioco base E con cui mi è permesso Non distruggere I boss O le situazioni In cui il mondo Di Elden Ring Mi immerge Con questo livello Compresi naturalmente In questo caso I potenziamenti Dell'albero ombra Io posso vivere Al meglio Questo mondo E magari Esattamente come ho fatto Con quasi tutti i boss Scontrarmi con loro Arrivare vicino A una loro disfatta Per poi uscire Evocare il personaggio Della quest di turno E vincere con lui Ecco Tutto questo Mi è permesso Ed è un qualcosa Di bello A mio modo di vedere Ma capisco Che ognuno Giochi Ender Ring In un modo che sente proprio Ci sono persone Che lo avranno finito A livello 1 Esattamente come io Ho fatto con Dark Soul Ci sono persone Che sono a livello 300 Non so neanche Se si può arrivare Effettivamente Però ci saranno Per certo Persone incredibilmente Potenti Che distruggono tutto Per me Quello non è vivere Il videogioco Per come è stato pensato E non è viverlo Per come io lo vedo Quindi Il mio livello Certo Magari mi porta un po' di più A perdere contro dei boss Vedete per esempio Le maggiori perdite che ho avuto Sono state contro Il drago del picco E non Bale Purtroppo Il drago Che cosa triste Ma tutti i restanti boss Non sono stati Particolarmente Ostici Anzi Come avete ben notato Si possono tranquillamente Distruggere Anche a questo livello Quindi Rifedrò un po' il tutto Sperando di non diventare Troppo debole Proseguiremo Con questa quest Arrivando da Mitra Successivamente Prenderemo Questo percorso Esplorando il tutto E arriveremo qui Suoneremo Quella struttura Per poi tornare dal conte E se avanza tempo Dopo aver scoperto E letto Quello che avremmo trovato Arriveremo qui Con molta probabilità Elden Ring Finirà Fra un due Tre episodi In tutto questo Non so Quando Scontrarmi Con Mesmer Perché a questo punto Noi potremmo Tranquillamente Andare avanti Probabilmente no Perché sappiamo Di aver bisogno Del potere di Mesmer Per avanzare Ma Ad oggi Sembra fattibile Quindi Grazie mille A tutti voi Che state seguendo Questa serie Non siete tantissimi Ma Vedo Che vi sono Delle interazioni Ed è bellissimo In questo mondo Pieno di gameplay Pieno di tanti youtuber Ben più conosciuti di me Che magari Dopo aver finito Anche questo DLC In una notte Stanno svolgendo Sfide più Entusiasmanti Invece con me È un'esplorazione Di questo mondo Senza purtroppo Poter dire Tantissimo Come vi ho già detto Del gioco base Di Elden Ring Tranne in determinate occasioni Come avete ben visto Quindi grazie A voi che ci siete Grazie mille Per le interazioni Che state lasciando ai video In tutta la mia Carriera Su youtube Non ho mai chiesto Neanche un mi piace Eppure Voi Lo lasciate Ed è Fantastico Grazie Alla prossima E Sappiate che Elden Ring È uno di quei giochi Che mi mette a Dura 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 Prova Per quanto riguarda L'aspettare Io devo fermarmi Editare l'episodio Viverlo Con voi Ma In tutto questo La verità è che La maggior parte delle volte Voglio semplicemente Andare avanti Registrare Magari in un secondo momento Ma andare avanti Ed è sbagliato Perché in realtà Devo aspettare Ed è giusto Che sia così Anche quando Ho un attimo di tempo Vorrei esplorare Ma esplorare All'interno di questo mondo Mi porterebbe Purtroppo Hanno ancora sangue Mi porterebbe Purtroppo A scoprire magari Un qualcosa di misterioso E poi Non lo vivrei con voi Quindi Spesso e volentieri Sappiate Che mi frino Dal continuare Per quanto ci sono state volte In cui Durante una semplice Esplorazione Ho magari battuto Un nemico potente E alcune volte Senza rendermene conto Vedete come è venuto Con i soldati di Mesmer Io credevo fossero Soldati normali Con abilità Particolari Invece no In ogni caso Spesso e volentieri Registro tutto E quindi Lo mostro Accelerato In editing Perdonatemi È solo La voglia Di avanzare Grazie E alla prossima